Pandemia finita, andiamoci piano e restiamo con i piedi ben piantati a terra e sotto gli occhi di tutti che mai come questo momento il virus guidato dalla variante Omicron 2 diventata dominante oramai fa il bello e cattivo tempo con tutti, bambini, ragazzi, adulti, anziani, vaccinati e non. Ad essere finita sembra l'emergenza, ufficialmente da oggi, primo aprile, si tenterà di ritornare in regime ordinario. Scuola, lavoro, ristoranti, green pass, mascherine, questa è l'Italia che prova a ripartire, non senza qualche remora, perché come ha sottolineato il ministro della Salute e Speranza non c'è un tasto off per spegnere la pandemia che è attualmente ancora in corso. L'attenzione psicologica è puntata sulle mascherine che per ora bisognerà tenere ancora al chiuso. Un presidio da tollerare ancora per un mese almeno perché l'incidenza del virus è ancora molto alta. A fine aprile il governo valuterà se toglierla o meno. In Campania i numeri sono ancora molto alti, l'indice è fermo al 18,24% con oltre 8.000 casi al giorno. In Irpini il tasso è addirittura superiore, oltre il 21% nella maggior parte dei giorni della settimana ogni 24 ore. La fondazione Gimbe che monitora la curva piazza la nostra provincia al secondo posto tra le piazze italiane in graduatoria. 500.000 casi settimanali con un aumento dello 0,3% e una media mobile che resta firma intorno ai 72.000 casi. Secondo la fondazione scendono da 38 a 34 le province con un'incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti. E quella erpina è ai piani alti con 1.457 preceduta dalla provincia di Lecce con 1.774. E' proprio per questo motivo che le corsi aggiuntive dei bus, soprattutto quelli scolastici, non saranno soppresse così come previsto con la fine dello stato di emergenza. Ieri da un confronto in prefettura si è raggiunto un accordo con la regione per la deroga fino a fine anno. Richiesta fatta dal prefetto al ministero per le infrastrutture e trasferito alla conferenza Stato-Regioni. Sarà dunque la regione campagna a coprire costi in conto spese con il benestare del governo. Nessun cambio dunque né per le corse né per gli orari scolastici che resteranno quelli stabiliti in condivisione con il piano trasporti.